Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Bentrovati nella nostra rubrica di bioetica. In questo tempo drammatico di pandemia ritroviamo ancora una volta dei temi bioetici che richiamano la nostra attenzione. Oggi parliamo di come la rete ProChoice sta approfittando dell'epidemia per spingere l'acceleratore sull'aborto farmacologico, la cosiddetta RU486, con la scusa di non congestionare gli ospedali. In pratica la proposta sarebbe quella di autorizzare la procedura nei consultori spostando il limite della somministrazione a 7 settimane anziché a 9. Vediamo meglio oggi non solo il funzionamento dell'R486, ma ancora meglio tutti questi aspetti che sono correlati all'aborto farmacologico. Diciamo intanto per rispondere subito a questa notizia di cronaca che ci fa credere che la RU486 potrebbe evitare di congestionare gli ospedali, anche consapevoli di effettuare una riflessione assurda perché in un momento come questo preoccuparsi di garantire l'interruzione volontaria di gravidanza ha veramente del surreale. Ma comunque ricordo che il protocollo di attuazione dell'RU486 per come strutturato non evita affatto di congestionare gli ospedali, anzi tutt'altro perché prevede 4 visite mediche in ospedale. Una prima visita è prevista per gli accertamenti ovviamente. La seconda per la somministrazione della prima pillola cioè il mifepristone che appunto è quello che va a sostituire il progesterone causando un danno all'endometrio e quindi uno sfaldamento e di conseguenza anche appunto il distaccamento del concepito impiantato in utero accompagnata tale somministrazione da una permanenza ospedaliera di qualche ora. Se dopo questa l'aborto però non dovesse verificarsi viene come dire fissato un terzo appuntamento in cui si prevede la somministrazione del misoprostolo una prostaglandina che quindi causa delle contrazioni in utero appunto quindi con la finalità dell'espulsione del sacco amniotico contenente l'embrione e siamo già a tre. Dopo due settimane dall'assunzione della prima molecola il mifepristone viene effettuata una quarta visita un altro monitoraggio potremmo dire per accertarsi che l'utero sia completamente vuoto come si fa anche per aborto spontaneo chiaramente. Se non fosse così ma se fossero rimasti dei resti in utero si dovrebbe comunque ricorrere al cosiddetto raschiamento cioè alla revisione uterina e questo capita il 5-8% dei casi. Quindi questo per dire che evidentemente l'obiettivo di decongestionare gli ospedali non viene affatto raggiunto con la RU486. Ma non è la prima volta che la pillola RU486 viene presentata dai suoi sostenitori come una valida alternativa all'aborto chirurgico. L'aborto chimico sarebbe secondo appunto la scia pro choice meno pericoloso, più facile, addirittura qualcuno dice più naturale e semplice di quello chirurgico e le donne vi ricorrerebbero più volentieri. In realtà da molti medici abortisti, quindi non certo pro-life, troviamo apprese di posizioni che ci mostrano come l'aborto chimico invece si ha più lungo, più incerto, senza contare che la sua efficacia diminuisce più si va avanti evidentemente con la gravidanza. Non si tiene conto del resto, nemmeno della sofferenza che la donna prova, anche solo nell'attesa prevista per la scelta. Anche una volta assunta la pillola, la donna nell'intero processo abortivo in cui è sola evidentemente a casa sua è costretta continuamente a controllare le perdite di sangue, nel caso di emorragia dovrebbe immediatamente recarsi in ospedale. Ma in grado una donna di capire con facilità l'entità dell'emorragia che può far scattare l'allarme e quindi farla recare in ospedale capite che anche a volte può capitare che magari al contrario l'emorragia possa essere sottostimata e quindi poi provocare danni gravissimi per la salute se non addirittura la morte. Più donne mi hanno fatto questa domanda Cosa prova la donna poi nella visione dell'embrione abortito? Perché c'è ovviamente come anche avviene drammaticamente negli aborti spontanei il racconto più frequente che sentiamo nelle donne che hanno vissuto questa terribile esperienza ripeto anche nel caso di un aborto spontaneo cioè questa visione dell'embrione espulso cosa che invece nell'aborto chirurgico evidentemente non arriva è evidente che gli effetti psicologici non possono che come dire manifestarsi con addirittura una sindrome quella che viene chiamata sindrome post abortiva cui abbiamo anche accennato già in questo diario che mentre la donna che ha avuto un aborto spontaneo riesce a superare rielaborando il lutto della perdita di un figlio la donna che invece ha una interruzione volontaria di gravidanza non riuscirà evidentemente a superare perché sarà costretta non a considerarlo come un lutto ma a dimenticarlo quanti racconti anche su questo abbiamo sentito io racconto spesso quelli che a loro volta mi raccontano i miei studenti sacerdoti che dicono che donne anziane vanno a confessarsi dopo anni e anni tante volte perché appunto ricordano quell'aborto effettuato magari anni e anni prima e che non riescono appunto a lasciarsi alle spalle infine anche alcuni autori hanno fatto notare come la diciamo la pillola questa pillola RU486 contribuisca a banalizzare l'aborto i pro-choice sono soliti come dire definire questo metodo abortivo più semplice dell'aborto chirurgico sempre un po' presentandolo come un aborto facile si prende un bicchier d'acqua si prende una pasticca così come per il mal di testa allo stesso modo lo si prende per interrompere una gravidanza questo purtroppo però è un male che viene ancora una volta mascherato anche se vogliamo nelle sue non solo nella gravità nel delitto tremendo in sé ma anche mascherando le sue conseguenze fisiche e certamente psicologiche quindi ecco mi colpisce per questo ho deciso di trattare questo tema oggi come si voglia ancora una volta passare un male all'interno di una situazione così drammatica e lo si faccia appunto passare velatamente come una sorta di bene quasi anche nello stordimento generale in cui le persone si trovano in questo momento bene io chiudo qui vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima pagina del nostro diario di bioetica oggi c'è Radio Roma Libera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia